Per me la Pomposo, la città metropolitana ha previsto dei fidanziamenti da destinare ai comuni per l'acquisto di defibrillatori. Sì, la città metropolitana ha messo a disposizione un budget per l'acquisto di defibrillatori, prevenzione della morte cardiaca attraverso i defibrillatori. In Italia le malattie cardiovascolari sono la causa del 41% di decessi. Il decesso avviene entro un'ora dall'insorgenza dei sintomi e copiscono circa 45.000-60.000 italiani. Su 100 persone colpite da un attacco di cuore per una fibrillazione ventricolare, un terzo muore prima di raggiungere il pronto soccorso, prima di raggiungere l'ospedale. È fondamentale immediatamente risolvere il problema, essere tempestivi. Dove verranno posizionati questi defibrillatori? Verranno messi a fianco alle ville, nei pressi dei Lidi, quindi zona litoranea, zona scala, vicino le scuole, vicino le piazze, insomma dove c'è molta affluenza in modo da poter agire in maniera tempestiva. Adesso il comune dovrà fare un bando per affidare ad una società l'installazione? Verranno affidati e uscirà questo bando per affidarli e curarli, non è che li mettiamo lì e poi vengono abbandonati, sarebbe inutile. Quindi diciamo che la sicurezza dei cittadini in generale è una delle priorità di questa amministrazione? Sì, il cittadino, avendo la delega fuorigiunta del benessere al cittadino, grazie all'intervento dell'assessore Anarito Ottaviano, che ha fatto da tramite con la città metropolitana, abbiamo avuto sul territorio i defibrillatori.